ciao buonasera a tutte e buonasera a tutti un dovesoso ringraziamento alle persone che si sono scritte in questo ultimo periodo e che hanno interagito con me grazie per le vostre iscrizioni cominciamo ad essere un po non posso altro che ringraziarvi questo è un bellissimo regalo ritorniamo quindi a parlare di profumi e stasera parliamo di un'altra nota olfattiva le note legnose ovviamente di profumi che fanno parte della mia collezione partiamo con smuggler soul di lash del 2014 questa è una versione solida ormai da collezione perché hanno cambiato il pack e questa è una la penultima diciamo il penultimo pack perché all'inizio come avevo già spiegato in un altro video erano in tubi di plastica nera molto anonimi ma al di là di dell'anonimato diciamo che la sostanza quello che importa quindi qui abbiamo un profumo solido di questo colore lo snasiamo e vi dico già che mi piace da matti io adoro questo profumo allora partiamo 2014 abbiamo note di palissandro sandalo note legnose vetivè taggete e lemongrass allora ci saranno altri profumi in questa carrellata con le note di palissandro è una nota aromatica molto e legnosa molto molto amabile io adoro questa nota e rende i profumi veramente spettacolari allora per parlare di questo come si dice quando si dice amore a prima vista questo per me invece è stato amore alla prima snasata un colpo al cuore diretto è intenso prepotente mistico con questo sandalo così presente che viene esaltato dal calore della pelle e anche dal ph che farà sempre la differenza e resa ancora più prezioso dalle notte legnose per me è stata un attrazione fatale ogni volta che l'indosso e oggi pomeriggio quando stavo preparando il video ho voluto indossarlo perché ovviamente mi sono rimasta nuovamente folgorata era un po che non indossavo sentiamo ancora mamma mia mamma mia che cos'è e l'ho indossato sui polsi continuavo a portare i polsi al naso per sentirlo veramente non io non smetto mai di inebriarmi per questa meraviglia è irresistibile ogni volta che l'indosso veramente è un profumo coccola piacevole da indossare è un altro profumo scelto di pancia è un profumo che ti stordisce ovviamente in senso buono allora ve lo avvicino ancora vediamo se si vede così ok io vi consiglio i profumi solidi di lascia al di là che durano tantissimo perché sono oddio adesso senza occhiali non ci vedo 12 grammi e bello scritto un grande guala ovviamente se non cadono i profumi dei miei video non sarei io 12 grammi di prodotto mi sembra intorno ai 13 euro vi portate a casa delle meraviglie oltretutto non avendo una formula alcolica questo tipo di profumazione solida va benissimo per la stagione estiva tenendo presente che per me non ci sono profumi estivi profumi invernali primavera autunno per me il profumo è indossabile sempre sempre in base alle mie ai miei stati d'animo quello che voglio indossare a quello che mi voglio ricordare ecco tenete presente questo comunque 12 grammi di bontà sempre i miei appunti allora adesso andiamo questo è grey vetivè di tom ford del 2009 allora è molto specchiato quindi apriamo la confezione e abbiamo questa meraviglia lo tengo così perché è specchiata l'etichetta quindi potrebbe dar fastidio allora 2009 dicevo pompelmo fiore di arancio salvia noce moscata rizoma di iris pimento vetivè notte legnose muschio di quercia ed ambra ed ambra questo è un profumo lussoso di carattere prettamente maschile ma come dico sempre sulla pelle femminile prende sempre il meglio di sé ha un'apertura agrumata molto frizzante un talcato in aggiunta nel corso delle ore d'indosso e queste note aromatiche legnose che si assestano si assestano nel fondo a volte con questa fragranza io faccio anche layering con la nota singola di vaniglia una tra tutte la mia preferita è vaniglia di soli note nella quale vi avevo già parlato in un altro video la magia che si crea con queste con questo incontro rende questa fragranza speciale io adoro 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 diamo un'altra traslasata ma poi che ve lo dica fare i profumi di tom ford hanno il loro perché sono veramente meravigliosi sono meravigliosi perfetto andiamo ecco un altro profumo di lash curbside violet del 2014 ok questa sempre in una versione che ormai non fanno più ed è diventata la collezione guardate guardate che viola che meraviglia questa è una fragranza stupenda questa ovviamente mentre preparavo il video ho indossato anche questa allora curbside violet del 2014 qui abbiamo palissandro foglie di viola mammola ylang ylang e gelsomino allora tutti i profumi di lash non hanno delle piramidi olfattive lunghissime ma queste piramidi olfattive ben mirate con prodotti ovviamente di alta qualità perché parliamo di prodotti di materie prime scusate di alta qualità rendono queste fragranze veramente inconfondibili non so se vi è capitato ovviamente sempre quando eravamo persone libere di scorrazzare nelle nostre città e di fare quelle belle passeggiate di fare delle giornate di shopping anche solo di per comprare solo un acquisto ma il fatto di poter andare in giro liberamente cosa che adesso per il momento c'è precluso io vado a milano a fare gli acquisti da lash in diversi negozi il mio preferito quello che è in via dante l'altro è all'inizio no a metà in dietro piazza duomo in pratica dietro la cattedrale il personale è fantastico e preparatissimo e soprattutto le persone che sono dedicate alla linea dei profumi mi fanno fare un'esperienza sensoriale incredibile io adoro questa fragranza e se come me amate le fragranze cipriate talcate soffici come nuvole impazzirete per questa fragranza è veramente da perderci la testa è così potente da stordire anche lei i sensi eppure è una fragranza all'interno del delle fragranze lash che abbastanza snobbata io ne sento parlare poco e direi da parte mia con un grande disappunto perché questa viola succosa zuccherina è molto integra intrigante e voluttuosa a me fa venire in mente un boudoir dove le grandi dame si vestivano si incipriamano si profumavano per poi ricevere le visite di compagnie maschili ecco è una visione un po romanzata e di questo profumo però per farvi capire che questo questa fragranza non è la classica viola da pizzi e merletti quella della nonna è molto ma molto di più ha veramente una marcia in più e per me è assolutamente deliziosa ok adesso arriviamo a emozioni floreali di bottega verde del 2019 allora vi mostro che questo edizione speciale c'è qui c'è scritto un regalo speciale per te perché questa fragranza mi è stata regalata al mio compleanno direttamente dal dal negozio diciamo dove io mi rifornisco perché sono cliente tessera oro e quindi in occasione del lancio di questa fragranza e a me è stata dedicata il regalo quindi questa questa confezione mi è stata regalata voi comunque il negozio la trovate così guardate il lusso allora molto specchiata e quindi adesso la rimetto nella scatola perché altrimenti ci accechiamo ok allora perché inutile fare un video dove non si vedono accidenti ok perfetto miele bianco agrumi caprifoglio fresia spezie note legnose orientali allora io ovviamente l'ho preso così a scatola chiusa perché tanto detto va bene profumo in più regalato va bene non non dico di no ed invece è stata veramente una sorpresa ma è nato un amore è una fragranza pari alle profumazioni lussuose e blasonate a cui siamo abituati per me è una delle più belle realizzate da queste meson da questa meson perché se le altre sono si sono abbordabili nel prezzo sono giocose le poi ci puoi giocare puoi fare layering perché sono fragranze dedicate ad una singola nota o comunque ad una profumazione particolare questa invece è una splendida creazione è un miele dolce ma così dolce che anche qui c'è da perderci la testa è un profumo che indossato dona calore piacevolezza e questo io ve lo consiglio soprattutto quando ci sono le promozioni perché come sappiamo tutti bottiglia verde ci abitua bene a promozioni incredibili tra l'altro visto che è uscita la versione natalizia sempre in una bottiglia così rossa e secondo me quello può essere il mio prossimo acquisto perché sono molto curiosa ovviamente lo dovrò prendere a scatola chiusa perché non si possono sentire le fragranze nei negozi è inutile spruzzare i profumi oggi come oggi sui sulle cartine l'unica è spruzzarlo sulla pelle tornare a casa farlo decantare e vedere però quello rosso mi intriga moltissimo ok o qui andiamo a un grandissimo amore grande amore per la maison parliamo di oggi e gale e per questa fragranza in particolare che è fleur de fighe del 2015 allora in tutta la sua bellezza qui ma in tutta la sua bellezza anche nel flacone allora qui abbiamo fico nettare di fico foglia di fico paciuli note legnose nettare di fico e muschio allora se qualcuno lo avesse capito questa è una fragranza dedicata esclusivamente alla profumazione del fico vi deve piacere io la adoro mamma mia mamma mia mamma mia che cos'è allora questa maison regala delle profumazioni incredibili io nel corso del tempo le ho provate quasi tutte questa però mi è piaciuta molto di più è la mia preferita anche perché se non lo sapete questa fragranza è stata creata dal naso mastro profumiere fancy cordigian che è famosissimo per la creazione della sua maison di profumi di nicchia che costano tantissimo questo è un gioiello da avere io ce l'ho dal 2015 si appena uscito l'ho acquistato subito perché anche questo è stato grande amore ovviamente ne ho usato fino a qui perché sempre sapete rotazione sono tanti io sto riscoprendo la mia collezione facendo e preparando i video per voi anche perché mi dà una grande un grande piacere e una grande soddisfazione sapere e vedere che è una cosa che che vi interessa è un fico molto presente che persiste e dura moltissimo è un profumo cipro con note dolcissime e quel sentore di talco ammaliante io di questo di questa fragranza ho fatto la recensione su fragrantica.it e fragrantica.com quindi questa qui penso che si trovi ancora adesso è un po che non acquisto fragranze di roger e galet ma io questa maison la amo io la amo tenete presente che è una maison francese scusate è venuta così è una maison francese molto blasonata molto antica è stupenda questa questa fragranza è stupenda questa dovete provarla e adesso andiamo alla chicca allora vi presento Ange eau de mon les secrets di Givenchy del 2009 allora questa e che ve lo dico a fare lo so allora questo è un eau de toilette si comporta come un eau de parfum qui abbiamo il tè mirtillo rosso americano limone di amalfi peonia gesto vino ninfea notte legnose e paciuli allora questa io ho acquistato questa fragranza lo ammetto semplicemente per il nome io ho acquistato questa fragranza a scatola chiusa e anche perché ero ammaliata dalla testimonial della campagna pubblicitaria che è stata UMA TURMAN ed è stata veramente una grandissima testimonial per questa per questa fragranza allora io vi faccio vedere il retro della bottiglia non so se si riesce a vedere sembra avere la coda del diavolo è bellissima questa questa bottiglia veramente ma anche la fragranza dicevo appunto quello acquistato perché mi ha ispirato il nome per me è quello che io chiamo il diavolo acqua santa ecco quello che per alcuni altri profumi della mia collezione mi hanno ispirato questa cosa qui ma questa è una fragranza particolare facilmente indossabile non è invasiva ma sempre di classe così come la maison givonci ci 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 abitua ecco a queste profumazioni molto particolari e molto eleganti il tè si sente in apertura e si sviluppa ancora nel corso delle ore delle ore ha quasi un'anima che ricorda l'interdit di Givenchy sempre del quale vi ho parlato nel video precedente il ricordo però molto brando però è tanto per farvi capire il genere resta una skin scent molto confortante non è molto longeva è perché è anche uno dei toilette l'intensità come intensità olfattiva è quella di uno dei parfum ma la durata è quella di uno dei toilette però come siamo ormai ben abituati noi ora siamo in grado di effettuare del layering che può aiutare a risaltare la durata io di questo profumo ne sento parlare pochissimo se non per niente ed è un peccato perché l'eleganza ed il glamour della maison sono racchiusi anche in questa creazione eccola qua e con questa io vi saluto spero di avere tenuto compagnia e ci vediamo al prossimo video ciao